A voi tutti il più cordiale, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori. Siamo in diretta alle sette e mezzo per sfogliare i giornali con il nostro touchscreen elettronico, dunque vedere quali sono i titoli e le notizie più importanti di oggi sui giornali. Lo vedremo tra poco, adesso subito con il santo del giorno, lo vediamo, è San Sotero Papa. È un Papa, ma stiamo parlando veramente, stiamo andando indietro, indietro, indietro nel tempo, perché stiamo parlando di un Papa che nacque probabilmente a Fondi, in provincia di Latina, e fu Papa dal 166 al 174. Il sole è sorto alle 6.12 e tramonterà alle 20.01. Questo è il nostro sito internet, occhialanotizia.it, come sempre aggiornato in tempo reale, e questa è la pagina dove è possibile anche accedere al nostro osservatorio meteorologico e dare un'occhiata per esempio alla temperatura attuale. Sono 12 gradi alle 7.30 di questa mattina, con la webcam che ci mostra anche uno scorcio della città di Fano. Noi vedete già iniziano gli annuvolamenti, infatti oggi avremo cielo nuvoloso per nuvole stratificate medio-basse, precipitazioni deboli sparse con occasionali rovesci nelle ore centrali, fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Però attenzione perché domani, sabato 23, vedete il tempo sarà ancora nuvoloso, con nuvole stratiformi, la nuvolosità si attenuerà soltanto durante la serata, ma avremo precipitazioni deboli diffuse con rovesci durante il pomeriggio e appunto i fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Domenica non è una bella giornata, anzi ci sono precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio, in particolare nel pomeriggio temperature minime stazionari e le massime in diminuzione, vedete ci sono anche i temporali. E la tendenza, visto che lunedì è festa, 25 aprile San Marco, la perturbazione di domenica continuerà ad essere attiva fino alla prima parte di lunedì 25, dunque sarà difficile poter realizzare le famose gite fuori porta del 25 aprile, un po' in campagna o giù di lì, insomma ci saranno piogge diffuse anche a carattere di rovescio e un marcato caldo di temperature, quindi tornerà il freddo. Poi dalla serata sarà atteso un miglioramento che durerà fino alla prima parte di mercoledì. Che volete fare? Insomma non ci sono buone notizie dal punto di vista meteorologico e ce ne faremo una ragione, adesso andiamo a vedere invece quelli che sono i titoli delle notizie sui giornali. Allora cominciamo dallo scandalo della sanità. Il Corriere Adriatico, questa è la pagina principale di Pesaro e Fano. Scandolo sanità indagati alle strette, la regione in pressing, dimissioni o sospensione? L'inchiesta si allarga, dunque ci saranno dimissioni oppure sospensione delle persone che sono indagate. La regione sta valutando quali sono i passi da compiere dopo lo scandalo della sanità che ha coinvolto i dirigenti di spicco dell'Asur Marche. E mentre il governatore Luca Ceriscioli conferma la fiducia nella magistratura per un'inchiesta delicata partita dall'appalto del Centro Unico Servizi di Fabriano, affiorano altri particolari sull'indagine che ipotizza anche alcune irregolarità nella fornitura di migliaia di volantini per la campagna elettorale dei candidati a governatore Gian Mario Spacche e Luca Ceriscioli. Per questa parte del fascicolo ci sono altri tre indagati. Dunque questa è un po' la situazione sintetizzata. A centro pagina gli eventi e la musica al tramonto, che sarà il must dell'estate pesarese, prime anticipazioni di questo calendario estivo. Ci sarà anche persino il festival del benessere e poi è confermata la notte rosa che coinvolgerà anche la città di Fano. Due notizie a fondo pagina sul Corriere Adriatico, quella di sport che riguarda il Fano, un secondo posto da tenere molto stretto e poi la sfida alla carnevalesca del Comitato Pacassoni, lo vedremo tra un istante. La pagina principale invece del Carlino di Pesero, la fotonotizia, è per questi pesaresi che ogni fine settimana fanno trekking sugli appennini. Addirittura c'è chi ha lasciato il lavoro per fare la guida, perché a quanto pare c'è tanta gente che è interessata a queste camminate, vedete, in mezzo alla natura, in mezzo al creato, una cosa meravigliosa. Tutti in cammino, questo è il titolo. Ma c'è spazio sotto la testata anche per il titolo principale che è dedicata all'inchiesta sulla sanità, nella quale sono finiti gli uomini di Ceriscioli. Gravi accuse per il massimo dirigente regionale, coinvolti anche i referenti elettorali. La pagina invece principale del messaggero, anche qui presidenti, inchiesta sui contributi, i presidenti si riferiscono a Spac Ceriscioli, Regione, la procura, Medilife finanziò irregolarmente le campagne di Spac Ceriscioli, governatore ed ex non sono iscritti però, risultano indagati l'assessore delle noci e Baldantoni. I finanziamenti elettorali di Ceriscioli e Spacca dunque finiscono nel mirino della procura della Repubblica, il presidente della Regione e il suo predecessore, dunque Spacca, non sono però indagati. Ma sotto inchiesta sono finiti i referenti della loro ultima campagna elettorale e quelli della Medilife, società romana che opera nell'ambito dell'erogazione dei servizi sanitari, già al centro di un processo sul presunto appalto pilotato da 12 milioni e mezzo, aggiudicato nel 2009 per realizzare il centro servizi unificato dell'Asur a Fabriano. E le contestazioni spuntano proprio dall'inchiesta sulla quale si è già aperto il processo per turbativa d'asta. E dunque qui staremo a vedere. L'altra pagina, cioè sempre sulla pagina principale, l'altra notizia, boom di presenze, lo sport fa bene agli hotel, nel fine settimana in arrivo oltre 6.000 persone. Chiaramente a beneficiarle sono gli alberghi probabilmente pesaresi. In arrivo 6.000 persone, ancora una volta pesero l'unico train in questo periodo dell'anno il turismo sportivo, dice Oliva, nel ponte in arrivo, quello del 25 aprile, che si concluderà lunedì. Gli alberghi della città, come fanno sapere dall'APA, l'associazione degli albergatori, saranno quasi tutti aperti. Sicurezza in spiaggia, torna la vigilanza, lo stabilimento Gastone e Marte, il primo della stagione a essere nel mirino dei ladri, vedremo tra poco, gli è stato rubato una bicicletta o un motorino, adesso vedremo meglio nel dettaglio. La pagina di Fano invece del messaggero, eccola qua, la notizia della casa adibita a casa di piacere, lanterne a luci rosse, questo è il titolo, la polizia scopre un giro di squillo cinesi, gli accertamenti dopo le telefonate di mogli insospettite dal comportamento dei mariti. Alcuni investigatori si sono anche finti clienti per poter entrare nella casa di appuntamenti, si prostituivano in un'abitazione su due piani a Madonna Ponte di Fano. Il proprietario però adesso finisce nei guai per aver incassato, intascato l'affitto, senza però dichiarare nulla all'Agenzia delle Entrate, che adesso sicuramente avvierà degli accertamenti. Per adescare i clienti si spacciavano per delle esperte gaze giapponesi, ma le tariffe erano popolari. Per quanto riguarda le altre notizie sulla pagina di Fano, trovata morta in terrazzo, questa mattina ci sarà l'autopsia di Maria Grazia Giulini, fanese di 64 anni, morta l'altro ieri sul terrazzo della casa in via Froncini. Tutto lascia prevedere che la causa del decesso sia stata un malore. L'ospedale si organizza la mobilitazione, oggi appesero il primo confronto in vista dei successivi appuntamenti, e dunque c'è questa prima riunione organizzativa per oggi alle 18, nella sede pesarese di Lega Ambiente. L'iniziativa avrà il suo prologo a Fano il 6 maggio prossimo, il convegno con uno dei massimi esperti italiani in fatto di appalti pubblici, Ivan Cicconi. Andiamo avanti con la rassegna. Vediamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico. La pagina di Fano racconta della scalata, la scalata ormai non ci sono dubbi, non si nascondono più, non si fa più neanche tanto mistero. C'è la volontà da parte dei carristi di prendere il posto dell'attuale presidente Luciano Cecchini, che è in scadenza ma che comunque si ricandida per fare il presidente della Carnevalisca per i prossimi tre anni. È nato un comitato, il comitato con il nome dei grandi carristi Pacassoni. Dicevo, non si fa mistero ormai che questo nuovo comitato cittadino Pacassoni avanti con i carri aspiri al direttivo della Carnevalisca, visto che è prossima la scadenza del mandato dell'attuale consiglio e la folta schiera degli associati dell'ente sarà tra breve chiamata appunto a esprimere il proprio voto. C'è, come vedete, ieri c'è stata questa presentazione, c'è anche il sindaco di Fano Massimo Seri insieme a Pacassoni, ai Pacassoni, già raccolta adesioni importanti nella volontà di valorizzare il ruolo degli artisti artigiani, cioè dei carristi. Nuove idee per coinvolgere la cittadinanza e aprire proficui rapporti sia con il pubblico che con i privati. La cronaca sotto, invece, maxitamponamento sulla E78, un ferito e traffico in tilt, l'incidente ieri mattina intorno alle 8, il conducente del veicolo bloccato all'improvviso è stato sottoposto all'alcol test. Scoperta la villetta delle lucciole cinesi nell'abitazione affittata in nero si prostituivano anche tre clandestine identificate decine di clienti, ci sono anche degli imprenditori. Il proprietario dell'immobile è un 69enne fanese, è stato segnalato all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per aver concesso in uso l'edificio senza un regolare contratto e anche per aver percepito, senza dichiararlo, un affitto di 1000 euro al mese per almeno un anno. Questa è la notizia che riguarda appunto la cronaca. Il vescovo Armando Trasarti in visita alla Guardia di Finanza di Fano è stato accolto dal comandante provinciale e dal tenente Leuzzi. Stasera invece pellegrinaggio giubilare di tutte le parrocchie fanese. Attenzione, quindi se ancora non lo sapevate, ecco, questo è l'annuncio che facciamo per quanto riguarda l'invito a tutte le parrocchie della vecchiaria di Fano che saranno in pellegrinaggio giubilare questa sera verso la cattedrale. Il ritrovo è fissato per le 21 al Pincio, dove i fedeli, accompagnati dal vescovo Trasarti, si dirigeranno verso il Duomo, dove sosterranno presso la Porta della Misericordia. Dunque, attenzione alle ore 21, appuntamento al Pincio di Fano per il giubileo che riguarda tutte le parrocchie della città di Fano. Ancora, fatture false per le sponsorizzazioni. Da Urbino la finanza perquisisce la sede di un'associazione sportiva e le abitazioni di nove dirigenti. Solo un nome finito iscritto nel registro degli indagati. I soldi confluivano nei conti dei giocatori ignari del raggiro. Ecco qua la bicicletta. Rubano la bici elettrica del bagnino. Quello che dicevo prima, Bagni Gastone si sono accorti. I ladri sono stati ripresi dalla videosorveglianza. E ecco questo. Ecco dunque un fermo immagine. Gli studenti di medicina all'ospedale dei Pupazzi torna la manifestazione del sisma per avvicinare i bambini all'ambiente sanitario senza avere paura. La pagina di Pesaro, gli eventi estivi, il fil rouge sarà il tramonto. Due novità con Sun and Spots e il festival del benessere. Confermati Zingaretti e la notte rosa. c'è anche la mezzanotte bianca dei bambini che si sposta in zona mare. Musicisti e artisti si esibiranno sulle spiagge. Ok, poi i ladri che sono stati sorpresi a rubare rame dalle cappelle del cimitero. La refurtiva nel furgone è stata trovata nel furgone abbandonato. Nei guai la proprietaria del mezzo è una notizia che arriva da Tavuglia. La pagina di Senigallia invece è campus scolastico al setaccio perché gli agenti del commissariato hanno controllato gli studenti all'ingresso della scuola. Caccia ai pusher, quelli che vendono la droga a questi giovanissimi. I controlli dopo l'esposto dei genitori e le segnalazioni di alcuni presidi perché dicono, insomma, gira nelle scuole tanta droga. Pensate voi, uno manda i figli a scuola sapendo che lì c'è droga, gira la droga, roba da pazzi. Aperti gli zainetti degli studenti nei giorni scorsi, bloccato un trentenne con 10 grammi di hashish. Ladri scatenati, razzia nelle auto in sosta. Sempre a Senigallia, commerciante veglia il figlio piccolo in ospedale, gli rubano la bicicletta. Danescevata una Volkswagen invece in zona stadio. Chiudiamo con il resto del Carlino. Previsioni errate in bilancio. Ci tartasseranno con le multe. Questa è la previsione, il vaticinio dei grillini che attaccano, dice, le entrate sono irreali. Il consultivo degli ultimi tre anni è molto inferiore alle stime fatte prima. Poi, per quanto riguarda il turismo, Rapa vuole chiedere i danni alla Build. Ricorderete, l'abbiamo detto l'altro giorno, il giornale tedesco che a un certo punto si è uscito dicendo che le Marche sarebbero, o meglio la Costa Adriatica, sarebbe nel mirino dei terroristi, insomma, che starebbero per farsi esplodere nelle spiagge. Una bufala di quelle che ormai probabilmente neanche quelli che l'hanno scritta ci chiedono più di tanto, ma comunque questo è. E adesso Rapa dice chiediamo i danni a questo giornale tedesco, ma come avevamo detto, insomma, questo è un tentativo maldestro di spostare il turismo dall'Italia, dei tedeschi dall'Italia, verso altre mete dove la Germania ha interessi, chiaramente. Allora, cecchini, sì, carristi, carristi in guerra con cecchini, cartapesta sempre più svilita, lasciarci a casa è una sconfitta per il carnevale, i due pacassoni, l'alleanza con la città è venuta meno, le creazioni sono investimenti e non oneri. Quindi dicono quelli dei carristi, abbiamo formato una quarantina di ragazzi, ma solo un paio hanno potuto rimanere nell'ambito del carnevale, perché lavorare due mesi l'anno non è un'attività economica remunerativa. Poi Fano Perugia, Fano Perugia unite dalle pedalate, parte la biciclettata del 25 aprile, una cicloturistica di 300 km e quasi 6.000 m di dislivello, infatti quella organizzata dall'associazione perugina Blue By, che dal 23 al 25 aprile sarà impegnata in un mini ride che parte da Perugia e arriva a Fano domenica alle 15.30 in piazza a Veduti. Anche il sindaco domani invece ha il compleanno dolce della Vespa alle ore 16 al caffè del pasticcere. Dalla pagina di Fano invece, ancora qui la cronaca, ecco la villetta del piacere, mogli gelose denunciano tutto, scoperto un giro di prostitute cinese nei guai due tenutarie. Il proprietario fanese incassava 1.000 euro al mese d'affitto, ma io dice lui non sapevo. Contro i furti, controllo di vicinato sempre più richiesto, ben 861 gli iscritti. C'è un gruppo Facebook che si chiama controllo del vicinato Fano e già insomma sono 861 gli iscritti. Ma ricordate sempre che al di là di Facebook, Whatsapp e quant'altro, il primo numero da fare, i primi tre numeri da fare in caso di, sono sempre quelli che riguardano le forze dell'ordine, 112-113. Omiccioli vince la battaglia dei derivati e Megasnet vola con un super utile, l'amministratore unico riconfermato all'unanimità fino al 2019. L'utile netto sale a 831.000 euro e dice lui, dice il Presidente, va tutto a riserva. Sotto ancora vedete la cronica, rubano rame dalle cappelle del cimitero, ladri in fuga. Una banda aveva già caricato su un furgone 50 kg di materiale del valore di 3.000 euro. E questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata. E vi ricordo che questa sera c'è occhio alla notizia, il telegiornale. Arrivederci. Grazie.